Sono Diego Bullo, sono della società Sofiesai. Noi produciamo l'etilometro monouso, utile, pratico e alla moda. Lo possono usare tutti, lo potete comprare in farmacia oppure personalizzare. La nostra azienda è nata nel 2003 e si è sempre dedicata alla produzione di Sofiesai. Se vi siete trovati in una cena, avete bevuto un bicchiere o più bicchieri e avete il dubbio di potermi dare, la soluzione è Sofiesai che vi consente di sapere se potete o non potete mettervi alla guida. Sofiesai è un prodotto pratico e facile da usare, oltre che alla moda, perché è attuale. Prima di tutto apriamo la confezione e dentro troviamo il prodotto che è costituito da due componenti, il pallone e il test. Per iniziare a usarlo dobbiamo partire dalla fase 1, che è rompere i due tappini all'estremità del test, di colore rosso e di colore bianco. Dopodiché svuotiamo i sali bianchi che sono all'interno, che servono solo per la conservazione. A questo punto possiamo soffiare in un unico soffio e fino alla fine della corsa dentro al pallone bianco. Attenzione, dobbiamo soffiare nel pallone bianco, non nel test. Dopodiché, una volta arrivati alla fine della corsa, scatterà una valvolina che trattiene il nostro fiato all'interno del pallone. E a questo punto possiamo prendere il test, laddove è indicato sulla freccina rossa, lo inseriamo nella valvolina del pallone e possiamo premere tutto il pallone. Quindi facciamo fuoriuscire e passare l'aria all'interno del test, tutta l'aria che c'è all'interno del pallone. Come abbiamo visto, il test è costituito da dei sali gialli. Se abbiamo bevuto, i sali diventano di colore verde. Se la colorazione verde supera la prima lineetta rossa, vuol dire che abbiamo superato lo 0,2. Se supera la seconda linea rossa, vuol dire che abbiamo superato lo 0,5. E la terza linea rossa, vuol dire che abbiamo superato lo 0,8. Ma attenzione, non dobbiamo guidare se abbiamo superato la seconda linea rossa, che è lo 0,5. Che è il limite, lo ripeto, stabilito per legge. Un'altra cosa, il test, per essere valido, va eseguito almeno 15 o 20 minuti dopo l'ultimo sorso d'alcol. Proprio perché la mucosa della bocca rimane intrisa di alcol e quindi tenderebbe a falsare il test. E soprattutto, prima del test, non dobbiamo aver fumato. Lo troviamo in farmacia oppure nei locali pubblici, che lo devono rendere disponibile per legge. Altrimenti, chiunque lo può personalizzare, ossia può personalizzare la confezione come meglio crede. A partire da soltanto 100 prodotti, fino ad arrivare a 100.000. Le aziende lo usano spesso per dare un utile gadget ai propri clienti o ai propri rappresentanti, e perché no, ai propri dipendenti. Dare un utile gadget significa consentire di fare una buona azione e divulgare la sicurezza stradale attraverso il proprio messaggio pubblicitario, che camminerà sulle gambe della gente o sarà sempre disponibile nelle auto dei propri clienti. Grazie. Grazie.